Ben amici bentornati, ero alla ricerca di cuffie degne di nota, degne del loro nome. Dopo aver provato e aver usato le Airpods e mi sono innamorato di quelle cuffie per la qualità, per il modo in cui stanno su senza dar fastidio, il modo in cui sono costruite, come ti sentono dall'altra parte mentre telefoni al tuo cliente, le ho trovate adorabili. Poi un giorno ho perso le mie Airpods e subentrata la disperazione totale, ma poi mi hanno iniziato a contattare per mandarmi, per inviarmi comunque sempre auricolari, ho provato tantissimi auricolari sul mio canale, ho portato le recensioni, ma non ho trovato nulla, nulla che riuscisse ad appagare quella mancanza, quel vuoto che mi ha lasciato le cuffie delle Airpods. Non riuscivo a trovare la cuffia perfetta e a un certo punto ho detto mi sa che mi tocca ricomprare le Airpods perché ci lavoro, sto tanto al telefono, quindi la qualità della musica e delle telefonate per me è importantissimo. A un certo punto però ho scoperto le Liberty Air. Liberty Air è un prodotto veramente che mi ha fatto risognare di nuovo la qualità di avere degli auricolari che non li senti, sono belli esteticamente, suonano veramente bene e quando fai una telefonata chi ti sente non capisce che sei con gli auricolari ma pensa che sei col telefono. Sono molto simili all'Airpods, ossia la custodia che se la giriamo assomiglia tantissimo anche come dimensione all'Airpods ma loro stanno così e il vantaggio è che stanno anche in piedi su un tavolo. Abbiamo l'apertura con i tre LED che ti segnalano comunque, come vedete, ti segnalano la carica ed è molto 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 importante. Ho iniziato a fare subito dei paragoni tra queste e le Airpods perché ero talmente innamorato che cercavo qualcosa che si avvicinasse all'Airpods e finalmente ho trovato loro. Vi posso già anticipare che queste cuffie sono spettacolari, queste cuffie sono allo stesso livello dell'Airpods quindi io già vi dico che consiglio queste cuffie per tutte le persone che hanno un telefono Android. Prima dovevi comprare l'Airpods e dovevi andare a scaricare delle applicazioni di terze parti per comunque riuscire a sfruttare tutto il potenziale di quelle cuffie che con magari un iPhone ce l'hai tranquillamente di default. Invece io adesso posso consigliare tranquillamente queste cuffie per tutte le persone che hanno un telefono Android senza dare a spendere tantissimi soldi perché le Airpods costano dai 160 in su ma queste cuffie adesso in questo momento costano 79,90 €. Hanno dei vantaggi superiori all'Airpods che è la durata delle batterie. La confezione ti permette di ricaricare da 0 a 100 per 15 ore quindi avremo un totale di 20 ore di autonomia al giorno quindi veramente la qualità della batteria è incredibile. Andiamo subito a vedere come sono fatti. All'interno è proprio come l'Airpods quindi non cambia nulla. Abbiamo più o meno lo stesso design, lo stesso disegno. Andiamo a tirarle fuori e abbiamo la prima e la andiamo a mettere su. Anzi ve la faccio prima a vedere vicino. Si ha messo a fuoco. Come vedete è un bianco laccato. Abbiamo qui il doppio microfono che riesce a eliminare completamente il rumore di sottofondo quindi per le telefonate è veramente un tocca sana. Le mettiamo su e come vedete stanno veramente bene. Non li perdi anche se vai a correre. Sono impermeabili, sono touch quindi abbiamo la possibilità di comandarli come si fa con l'Airpods e se andiamo a inserire tutte e due abbiamo un vantaggio che io trovo veramente esagerato rispetto all'Airpods che già così ti esclude l'ambiente esterno che per tanti momenti, per tante situazioni può essere anche un qualcosa che non è così vantaggioso perché se sei in mezzo alla strada magari rischi di non sentire chi c'è ma se sei sopra un aereo, su un treno, non vuoi sentire il tuo vicino, non vuoi sentire tanto casino, già queste cuffie senza accendere la musica già ti isolano dall'esterno ed è favoloso. La qualità della musica, la qualità della voce, la qualità del suono, la qualità delle telefonate è superiore ai Airpods perché forse essendo all'interno ti riesce a dare quella qualità, quella sensazione, amplificare tutto molto di più, sia la voce che il suono che i bassi. La durata ve l'ho già detto è eccezionale, quindi devo dire che sono eccezionali. L'unica cosa che invece mi ha fatto un po' storcere il naso è stato il fatto che l'auricolare destro è quello che comanda tutto, quindi se noi prendiamo l'auricolare destro e lo mettiamo all'interno del cofanetto, quello sinistro si annulla, quindi non possiamo telefonare, non possiamo ascoltare la musica. Per poter utilizzare solo il sinistro bisogna tenere il destro fuori dalla sua scatoletta, ma se lo mettiamo all'interno e facciamo così, lui si disattiva in automatico e quindi il sinistro diventa inutilizzato, cioè non lo puoi utilizzare. Questa è una cosa che mi ha dato un po' fastidio perché con lungo andare penso che andrai a usurare, a rovinare di più l'auricolare destro perché è quello che userai sempre, sempre, sempre di più. Cosa dire? Velocità di risposta. Velocità di risposta quando apri e lo tiri fuori e il collegamento diretto al telefono è allo stesso livello se non più veloce dell'airpods, quindi veramente promosso in pieno. Possiamo tenere gli auricolari all'interno, quando arriva la chiamata, lo tiri fuori, lo metti su e puoi rispondere tranquillamente. La ricarica è velocissima perché da 0 a 100 in un'ora si ricaricano, ma devo dire che non ho mai avuto questo problema, li sto provando da due settimane ormai e l'auricolare non si scarica mai, cioè sento la musica, ci telefono, li metto dentro solo per comodità che poi si ricaricano, ma non sento la necessità di ricaricare tante volte esco col cofanetto in macchina e la cuffia sopra perché non si scarica. Quindi avere un'autonomia di 5 ore ragazzi è veramente tanta 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 roba. Ragazzi promossi in pieno, promossi veramente gli do un bel 10 a questo prodotto sia per il prezzo, la qualità, le straconsiglio per tutte le persone che si vogliono avventurare a queste cuffie, dico passate da queste qua perché finora sono le cuffie migliori che io abbia mai provato, le cuffie veramente eccezionali. Quindi straconsiglio queste cuffie, vi lascerò sotto il link in descrizione per l'acquisto diretto di Amazon, dategli una possibilità perché veramente tornerete qui nel video e mi direte Andrea sono spettacolari. Ragazzi come sempre vi chiedo un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao, beggi! Ciao, beggi!